Allora, avvolge in conclusione la giornata di oggi. Gli interventi in successione sono stati molto interessanti. Allora, io direi questo. Dottor Berni, si evince dalla giornata di oggi che un consumatore informato, informato in modo corretto naturalmente, sceglie bene. Ma come facciamo ad informarlo? Beh, dobbiamo pretendere che ci siano delle norme comunitarie che impongano di inserire in etichetta alcune informazioni fondamentali che per alcune categorie merceologiche abbastanza ci sono e su altre sono totalmente assenti. E soprattutto che vada a tutelare quei principi che evitino le evocazioni. Perché il problema fondamentale è la concorrenza sleale ma legale, a danno ovviamente del consumatore, e le evocazioni, quindi con l'utilizzo di nomi o parte di nomi dei prodotti certificati, che viene fatto espressamente per trarre in confusione, direi di più, in inganno il consumatore. Allora il consumatore per poter scegliere liberamente deve scegliere in modo consapevole. E per scegliere in modo consapevole deve essere informato in che modo dà l'etichetta. Perché non è che tutte le volte che prende un prodotto lo fotografa e poi va a cercare in internet e quindi un gesto d'acquisto gli dura mezz'ora e di professione fa l'acquirente. Non è così e non può essere così e occorre che l'informazione immediata la trovi in etichetta. Quando il consumatore è informato la scelta che fa consapevole è libera. Quando il consumatore può scegliere liberamente è l'arbitro del successo o dell'insuccesso del prodotto in relazione al prezzo, in relazione al gusto, in relazione alla qualità e al valore che il consumatore attribuisce al prodotto che decide di andare a comprare. Il consumatore ha sempre ragione ma per poter avere sempre ragione ha il diritto di essere informato e i produttori e coloro che vendono i prodotti agroalimentari hanno il dovere di informare correttamente il consumatore e quindi dove le norme non lo impongono bisogna che le norme europee si correggano proprio per rispetto del consumatore. Ovviamente il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali conosce la situazione dell'aceto balsamico di Modena non solo ma di tanti prodotti DOP e IGP che vengono talvolta contraffatti e talvolta evocati. Allora che cosa ci aspettiamo da questa giornata perché i lavori sono quasi in chiusura e quindi che cosa diciamo a questo punto? Il Ministero delle Politiche Agricole è perfettamente a conoscenza e sta facendo tutto quel che può fare anzi di più perché con le norme a disposizione interviene in maniera energica. La giornata di oggi è fornire al Ministero delle Politiche Agricole una forza coese e solidale a sostegno di queste tesi da portare al Governo e affinché il Governo le sostenga a livello europeo. Oggi non avevamo e ne volevamo aggiungere niente rispetto a quello che il Ministero già perfettamente conosce e ben fa ma solamente dare forza al Ministero per portare avanti queste istanze che se sono in primis a favore del consumatore in seconda battuta lo sono anche a favore dei produttori seri, leali di prodotti DOP e IGP tra cui ovviamente l'aceto balsamico di Modena il cui nome è storpiato in tutti i modi perché basta che si vada in giro per l'Europa dal momento che l'aceto balsamico di Modena ha oltre il 90% di esportazione per vedere quanto in giro per il mondo si chiama balsamico che niente ha a che vedere con l'aceto balsamico di Modena e IGP.